Grazie Allora, segretario, punto numero uno Lettura e approfondazione di Valparais Buda del 28 ottobre del 2013 Lettura e approfondazione variante al PRG per i sensi dell'articolo 19 e del TPR 2017-2001 Tracciato per l'antima Europa della Repubblica della Inizia e di Perfettina Stata via Salvatore 5 via Preppiano Allora mettiamo i voti? Caporevo? elezione consiglieri elezione consiglieri unione di città eh sì è elezione consiglieri unione dei comuni città andrà sì sì prego grazie 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 grazie